Siamo sempre nella cittadina di Torre Maggiore in provincia di Foggia, ma ci siamo spostati dalla chiesa di Santa Maria della Strada alla chiesa di San Nicola, che è la chiesa come si dice madre, che è l'arcipretura, così come nell'antichità, ma mica poi tanto diciamo, si denominavano queste chiese che in un certo senso rappresentavano la cattedrale, quasi come un prolungamento della cattedrale ai paesi, ai centri. Chiesa di San Nicola, su internet trovate tutto, quindi chi vuole notizie storiche può tranquillamente riferirsi a questi nuovi mezzi di comunicazione. Noi continuiamo il nostro cammino di riflessione, anche ben incastonato nel tempo liturgico che stiamo vivendo, e cioè il dono delle lacrime. Abbiamo visto come le lacrime siano, secondo la parola dei pari della chiesa, un secondo battesimo per noi credenti. Un modo per poter rinascere le lacrime vere, le lacrime di pentimento, le lacrime che nascono dal cuore e che toccano il cuore. Quindi il dono delle lacrime perché dono per che ognuno possa avere l'opportunità di partire o ripartire dal proprio pentimento per poter rinascere e rinascere nella vita nuova di Cristo. Tutti conosciamo, almeno noi italiani non solo, un grande santuario, il santuario della Madonna delle lacrime a Siracusa. Veramente questo titolo, molte volte legato ad apparizioni in cui la statua della Madonna ha pianto, oppure proprio nell'apparizione si è vista la Madonna piangere, questo titolo è diffuso soprattutto nel sud Italia, ma non mancano segni al nord del nostro paese, ma anche in Europa e nel mondo perché i nostri italiani ovunque vadano si portano le loro devozioni e i loro segni di legame con il territorio e la fede. In questo santuario si è recato il Papa Giovanni Paolo II, oggi San Giovanni Paolo II. era il 6 novembre del 1994 e andando a Siracusa ha composto una stupenda preghiera in cui non solo prega, ma anche spiega il dono delle lacrime, spiega perché Maria piange, spiega perché il popolo venera Maria pensando al dono delle sue lacrime, Maria che ci dona le sue lacrime, perché? Ma di questo ne parliamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!